questo non è ASMR e sono io che gioco perché come un italiano mi muovo e quindi tocco il microfono quindi vi chiedo scusa già anticipatamente buona visione oggi assetto corsa competizione manco gli anni allora nella previsione di una probabile shitstorm vorrei fare una premessa prima di iniziare questo video mi è stato chiesto da Alberto e da Vito che saluto affettuosamente e ringrazio per questa richiesta e tutti voi che siete intervenuti ultimamente nei video che sto postando per parlare di Automobilista 2 in cui si sono trovati dei commenti veramente molto coerenti, maturi e dei commenti veramente di un certo spessore Alberto nello specifico mi chiede di fare un paragone tra assetto corsa competizione e racing flaggando praticamente ogni singolo contenuto ovviamente questo è un guanto di sfida che raccolgo con immenso piacere Alberto che mi conosce bene sa che non farò una disamina basata unicamente su un calcolo su una calcolatrice come ho fatto l'altra volta perché qui il ragionamento deve spingersi oltre a un semplice come dicevo calcolo matematico perché? perché molto semplicemente assetto corsa competizione e iRacing sono due prodotti diametralmente opposti sono costruiti, sviluppati con delle idee completamente diverse uno che è della QNOS assetto corsa competizione nasce per dare una ventata di fresco con una licenza nuova black paint gt3 che praticamente nessuno si era occupato come si doveva e che in quel momento le gt3 stavano spaccando race room aveva rifatto disegnare ricostruire la fisica vi ricordo da un pilota esperto proprio il comparto di gt3 quindi luggimiranti hanno fatto uscire con una licenza ufficiale ragazzi black paint assetto corsa competizione creando un hype intorno a livello marketing pazzesco sono stati dei professionisti della pubblicità Aris fino all'ultimo aggiornamento lo ha fatto e infatti assetto corsa competizione è acclamatissimo guai a chi tocca assetto corsa competizione amato e odiato e criticato ma è sempre presente ragazzi quindi abbiamo fatto un lavoro pazzesco ed è un simulatore che vi offre una categoria lasciate stare gt4 mgt3 è un simulatore che vi offre 4 macchine per tipo per ogni annata che sono uguali non prendiamoci giro sono uguali ok e che vi costa in totale 123,95 euro a me in questi anni e che durerà forse un altro anno e mezzo 2018 fino al 2024 sono 6 anni di gioco a 120 euro mi pare che sia un affare per entrambi uno per una questione di pubblicità per quanto riguarda Kunos che già è lanciatissima dal suo assetto corsa 1 si rilancia in attesa di questo assetto corsa 2 che tutti aspettano race department ne parla hanno fatto un sondaggio il 70% di tutti noi aspetta assetto corsa 2 neanche il Le Mans di studio 397 che in fondo Rensport addirittura che non riesce a creare hype proprio perché copia il motore grafico di assetto corsa competizione quindi tutti stiamo aspettando assetto corsa 2 quindi hanno centrato l'obiettivo che era quello di fare un gioco di più o meno 6 anni raccogliere un massimo di soldi farsi un nome e quindi farsi riacquistare da chi ha soldi 505 games, motorsport quello che era e hanno ottenuto fondi e le licenze giuste adesso arriva assetto corsa 2 questo era l'obiettivo di assetto corsa competizione e dei Kunos quindi che paragone dobbiamo fare ragazzi è un gioco che è nato ed è destinato a morire in un dato periodo preciso perché questo va a finire negli scaffali perché non si può moddare quindi non ha possibilità di evoluzione assetto corsa 1 avrà comunque sempre un seguito perché ci saranno sempre gli appassionati chi ha delle librerie con un teramilione di byte con tutte le mod dove ci sono pure i carrelli della spesa non lo abbandonerà così ci saranno sempre server infatti ancora oggi assetto corsa competizione dati ufficiali steam maggio 2023 non gli arriva la caviglia di gente che utilizza assetto corsa e non solo non parliamo di refactor 2 ancora più basso capito ragazzi? l'intento era quello quindi come faccio a fare un paragone dicendo 2000 euro per racing 120 euro per assetto corsa competizione ha vinto assetto corsa competizione non funziona così non c'entra nulla sono due mondi completamente opposti nell'altro video ho fatto solo un paragone prendendo se prendo tutto ma ovviamente non è un qualcosa di realistico prendo tutto se il prezzo è accessibile oppure se sono uno sceicco e ho un miliardo di pozzi di petrolio allora mi compro tutto quello che voglio sto parlando dell'utente medio come me che il 100 euro nella tasca se lo ritrovo e lo può spendere ma non 2000 euro così ora vediamo iRacing qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensi se volete sapere cosa penso di iRacing ho già fatto un video nel quale io confermo tutto quello che ho detto ci saranno forse qualche correzione imperfezione in quel video da rivedere ma in linea di massimo è un titolo che ho giudicato positivamente questo ve lo anticipo se volete più dettagli lo trovate magari metterò qualche scheda quindi fatto questa premessa e dato il mio pensiero su che cos'è assetto corso competizione qual è l'idea di Kunos per assetto corso competizione parliamo di iRacing iRacing è un servizio è un servizio che offre un simulatore di guida che è costantemente aggiornato dal 2000 e passa che ha un'idea di servizio che offre la possibilità di avere un multiplayer con gare e time trial costantemente disponibili 24 ore su 24 bisogna solo schedulare e organizzarsi offre la possibilità di splittare i vari giocatori nei server in base al proprio livello ok? e questo lo fa durante le gare cioè durante le prove qualifiche vede il livello e dice sono 100 iscritti a questa gara benissimo i primi 20 li metto qua e via dicendo è un servizio che se avete la pazienza potete in caso di errori di valutazione del rating o incidenti fare un protest e c'è un team dietro che analizza il video e le prove e riaggiusta eventualmente i rating oppure viene a penalizzare è un servizio che vi offre una marea di contenuti ma che costantemente vengono aggiornati e migliorati sempre e costantemente non si fermano mai sono sempre all'ascolto hanno dei problemi con le gomme lo sappiamo il netcode ha avuto dei problemi ma sono stati lì a sistemarlo va rivista un po' la frenata ci lavorano costantemente circuiti tutti in laser scan tutti non uno tutti ragazzi io se guardo le auto eccole qua guardate quante auto tutti i campionati c'è di tutto ovviamente è molto americans ma come automobilista è molto brazilians brazilians eccole qua guardate quanti quanti circuiti e costantemente ne tirano fuori laser scan oltre 100 circuiti per 350 configurazioni news e-sport guardate qua quanti campionati e-sport incredibile cioè c'è veramente di tutto e in più c'è anche una certa televisione ragazzi ci sono delle live che sono pazzesche dove ci sono i commentatori all'americano ci sono i commentatori con quell'entusiasmo che hanno lì a commentare le gare potete scalare le classifiche e andare a diventare dei campioni dove si guadagnano soldi ragazzi la SA di Assetto Corsa Competizione è ridicola ma lo sapete perché ve lo dico perché perché se io mi metto d'accordo con un amico mio e faccio 5 giri uno dietro l'altro così piano piano la mia SA schizza a 99 quindi mi ritroverò un cretino in un server che magari è salito di SA in questo modo qua cioè puoi aggirare il sistema e poi lo puoi anche si può cittare ragazzi potrei tirare fuori un sacco di cose che a 120 euro uno dice vabbè iRacing invece queste cose qua ci fanno attenzione c'è un team c'è veramente un sistema c'è un sistema di gift card ragazzi potete regalarlo perché è un servizio oltre a un simulatore e potrei parlarne ancora le features che cosa gli aggiornamenti le season mamma mia c'è un seguito pazzesco sono due prodotti completamente diversi sono imparagonabili solo in qualche cosa potrebbero essere paragonabili e sono proprio quelle cose lì che interessano a noi la fisica il force feedback la grafica il sound se lo per qua questo possiamo paragonare ma non il prezzo perché non ha senso poi potrei anche dire e prendere qui il il punto di vista di due cilindri che è il nome di chi ha commentato che dice ma io da 2008 per 15 anni con qualche pausetta qui e là ho speso 2000 euro il che rappresenta 133 euro all'anno che mi sembra totalmente consono a quello che è la mia spesa io tutti i simulatori in 10 anni ho speso 150 euro all'anno quindi ragazzi ecco perché vi dico che non si può fare un paragone bisogna capire di che cavolo stiamo parlando e che cosa vuoi quali sono gli obiettivi anche dei dei vari sviluppatori poi c'è un commento in particolare che utilizzerò come arringa finale di questo video ed è quella di Vincenzo Nixos 1 2 3 perché ne abbiamo discusso e condivido totalmente il suo pensiero e ve lo ve lo leggo qui Nixos 1 2 3 qui Nixos 1 2 3 e qui chi ci segue sa di che cosa stiamo parlando ecco cosa dice Nixos il sim racing è la nostra passione e si sa che può essere un hobby molto costoso quindi preferire un sim da un altro solo perché costa meno per me è sbagliato a prescindere se non si è pronti a spendere un po' di soldi per la propria passione è meglio cambiare hobby su queste parole che condivido ragazzi vi ringrazio per avermi seguito lasciate un pollice in su e quindi ragazzi lasciate un commento che è sempre ben accetto sarà per me un onore potervi leggere e rispondere iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao e se pensate di dirmi e vabbè ma c'è l'fm o racecraft e no ragazzi perché non fanno parte di assetto corsa competizione o di automobilista 2 intrinseco come servizio sono sempre comunità esterne stiamo parlando di un servizio che offre il simulatore che offre di un servizio che offre a il rimane e il rimane